Oggi Aurora ha approfittato di questo sole per uscire a passeggiare con Cesare. In seguito ci mostrerà tutti i regali che stanno arrivando per il piccolino. Siamo tornati traffellati da questa passeggiata, mamma mia! Non uscivo da un po' di giorni perché non sono stata benissimo e fanno 80 gradi fuori. Abbiamo sudato sette camicie, amore! Allora, ne approfitto di questi due secondi di serenità, mi sembrerebbe tranquillo. Per dire questa cosa che volevo dire da un po'. Mio padre è tornato qualche giorno fa, forse un mese fa, non lo so, ho perso la cognizione del tempo, dal tour europeo con una valigia enorme, strabordante di regali per Cesare, da parte dei suoi fan in giro per l'Europa e in giro per il mondo in questi mesi. Sicuramente risuccederà quando tornerà la prossima volta. Veramente volevo dire che sono molto emozionata del fatto che ci sia così tanta gente, anche in vari paesi, che dedica un pensiero al mio bambino. e mi emoziona da morire, grazie, grazie mille. Lui da va bene. Se questo video ti è piaciuto, lascia un mi piace e iscriviti al canale.